La grande Praia, che deve risorgere, non deve nascere, deve risorgere dalle sue stesse ceneri. Municipalità e cittadinanza scende in campo. Ieri nel corso del comizio tenuto sin Piazza Italia sono stati presentati i primi sei candidati della lista capeggiata da Gino Spolito. Il manager Mario Bonucci, zio del calciatore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato della necessità di portare a Praia a mare imprenditori che sviluppino il paese dal punto di vista economico. Maria Francesca Mandato, spinta dalla voglia di rappresentare le madri lavoratrici e non. Maria Oltrano, di nazionalità romena, ma cittadina praiese da anni e che vuole dar voce a quella folta comunità che non viene purtroppo presa in considerazione. Salvatore Fiume, che invece vuole rappresentare i commercianti, categoria vessata fin troppo dalle tasse. Morizio Coluccio, ex poliziotto, che da anni combatte contro una malattia rara e che è scese in campo per dare il suo contributo per la rinascita di Praia, soprattutto dal punto di vista sociale ed economico. Tra i candidati, anche Anna Fittipaldi, che ieri sera non era presente al comizio per impegni di lavoro. A chiudere la manifestazione, il candidato sindaco Gino Spolitu, non solo ci saremo, ma il nostro obiettivo è anche quello di vincere. Vincere vuol dire per Spolitu anche sedersi tra i banchi dell'opposizione, perché un'opposizione combattiva come la nostra metterebbe sugli attenti qualsiasi amministrazione. Logicamente l'obiettivo è quello di governare, ma questo può avvenire solo se i cittadini lo vogliono. Dobbiamo mettere fino a un sistema clientelare che si trascina da tempo, non c'è droga peggiore del clientelismo. Vogliamo dar vita a un programma che vi sollevi Praia dal punto di vista economico, perché non si vive solo di viale e di bei marciapiedi. Spolitu ha anche spiegato come sono stati scelti i candidati. Abbiamo voluto dar voce a tutte le categorie della nostra cittadina. Ognuno di questi candidati è prima di tutto un combattente della quotidianità. Per la prima volta abbiamo anche un rappresentante della variegata comunità slava, comunità che nessuno ha mai preso in considerazione. Ebbene, anche questi cittadini pagano le tasse, pertanto devono essere rappresentati. Parliamo di centinaia di persone che finora non hanno avuto voce.